buongiorno benvenuti alla masseria le terrazze di serranova ci troviamo a serranova di carovigno e siamo ai confini della riserva naturale di torre guaceto qui verrete accolti in un ambiente ed in un'atmosfera intima e rilassante tutto è iniziato quando ci siamo innamorati di queste campagne e abbiamo deciso di far vivere un luogo pieno di storia e di bellezza avrete l'opportunità di gustare le tipicità della nostra produzione realizzata tutta nel rispetto di una agricoltura biologica e sostenibile la nostra cucina vi permetterà anche di assaporare i piatti della tradizione tutti reinterpretati con gli ingredienti locali e sempre accompagnati dal nostro olio extravergine la nostra masseria vi consentirà di vivere tutte le diverse esperienze e attività che qui organizziamo come per esempio lo yoga nell'uliveto il tour in ape calessino o l'escursione in barca a la parte integrante della nostra famiglia sono i nostri asini con i quali organizziamo delle passeggiate al torre guaceto nella ciclovia degli ulivi secolari ma anche laboratori didattici per i più piccoli siamo maria e ferruccio e vi aspettiamo alle terrazze di serranova